A Scafa Pensionati ha disposizione dei bambini per trasmettere le proprie esperienze e conoscenze e far riscoprire i mestieri di una volta, caduti nel dimenticatoio oppure radicalmente cambiati nel corso degli anni. È un progetto che coinvolge il Comune, la Scuola Primaria, la UIL Pensionati e l'ADA, l'Associazione dei Diritti degli Anziani. In questo momento di piena globalizzazione abbiamo voluto dare una svolta nuova, diversa, per portare a conoscenza di quelli che saranno i futuri operatori di lavoro che andranno a costituire la nuova generazione. Abbiamo voluto proporre quelli che erano i vecchi mestieri di una volta che oggi potrebbero essere riscoperti specialmente in un momento di difficoltà in cui la globalizzazione ci ha travolti e quindi potremmo riscoprire vecchi mestieri chiaramente attinenti al momento attuale in cui viviamo, quindi con tutti gli annessi e connessi, però potrebbero avere anche degli sviluppi occupazionali per il futuro. Il progetto si articolerà in tre fasi, una teorica in cui sarà raccontata la società di decenni passati, una pratica con le visite guidate e una riguardo lo scambio intergenerazionale tramite un'intervista che i bambini realizzeranno con i propri nonni. I bambini sono rimasti entusiasti anche perché noi abbiamo proposto come intervento non solo la parte teorica ma gli diamo anche un aspetto dinamico attraverso delle visite per fargli conoscere vecchi laboratori anche se sono dismessi ad oggi, però gli facciamo vedere queste cose dinamicamente e poi vogliamo fare anche una intervista finale che è praticamente per riportare un discorso intergenerazionale tra bambino, tra ragazzo e il nonno oppure la persona anziana che possa contribuire ad allargare le conoscenze del passato perché l'hanno vissuto e quindi possono dargli proprio un'esperienza diretta.